E avete già visto e riconosciuto il bellissimo sorriso di Michela Murgia? Ciao Michela, sono davvero felice di averti con noi. È proprio vero che non bisogna mai avere dei pregiudizi. Vi sareste mai immaginati che Michela Murgia andasse matta per i BTS? Li ho pronunciati bene? BTS. Gruppo coreano. Credo che ormai lo sappiano tutti, in realtà. Devo dire che questo sorriso io non lo riservo a molti. Quindi ogni volta che appaiono loro su uno schermo mi esce spontaneo e non riesco a controllarlo. È un'energia di felicità che tra l'altro hai messo anche nel tuo... Perché i BTS sono fra i protagonisti del libro di Michela, vero? Di un racconto del libro. In un racconto c'è uno dei BTS rappresentato in un cartonato. Direi che sono i protagonisti no, però è vero che nella mia vita hanno molto più peso che nel romanzo. Questo sì. Senti, ma perché studi il coreano? Perché ti sei appassionata alla lingua coreana? Mi sono appassionata al coreano perché avevo bisogno di una lingua terza che non si portasse appresso tutti i significati che le mie altre due lingue madri, l'italiano e il sardo, si portano invece dietro. Sono lingue dove quando vieni cresciuto in quelle lingue impari tutte le parole, tutte le sfumature e le usi per tutta la vita. Io che con le parole ho lavorato, ho immerso le mani in quel materiale in un modo che a volte le mani me le ha scottate. Ho detto parole, ho ricevuto parole in una lingua e nell'altra che da un certo punto in poi della mia vita mi sono sembrate tutte troppo pesanti. Quelle che avevo detto e quelle che avevo ricevuto. Ho avuto bisogno di una lingua che fosse vergine per me, totalmente vergine e diversa nella struttura. Il coreano per me è stata questa specie di terra terza. Ecco, ma che mi colpiva Michele. Sì, un'altra mentalità. Il coreano è una lingua senza generi, vero? Non ci sono i generi, c'è maschile e femminile. Pensa per me cosa significa che ho combattuto tutta la vita contro la discriminazione del linguaggio, addirittura come dire difendendo, proponendo soluzioni alternative come lo shwa e mi ritrovo a studiare una lingua dove questo problema tecnicamente non esiste. Non significa che non esista la discriminazione naturalmente, però basta per altre strade, non per quelle a cui io sono abituata. E viaggiare in una lingua che per te è una strada nuova è una bellissima avventura. È un'avventura affascinante. Tra l'altro il coreano ha ben 21 suoni vocalici, che io non so se ce ne puoi far sentire un paio, perché noi già con 5 ci sembrano già tanti. Quali sono gli altri 16? Beh, in realtà sono suoni vocalici e intervocalici. Hanno alcune vocali pure come le nostre e poi hanno una serie di tonghi e di suoni abbinati che funzionano come un'unica vocale. E questo la rende una lingua molto musicale. Pronunciarle da solo è difficile, perché il coreano quando lo pronunci suona, cioè ha proprio un andamento. Diciamo che serve anche per ridurre quella spocchiatuta italiana con cui diciamo che la nostra è la lingua più musicale del mondo. In generale chi dice così conosce solo l'italiano. L'italiano. Il coreano tende a essere molto più musicale. Se faccio questo gesto... La cosa forse più interessante... Michela, c'è un leggero ritardo. Se faccio questo gesto, spero di farlo bene, cosa significa in coreano? Perché so che tu adesso saluti le persone così. E' un segno di riconoscimento tra persone che seguono la cultura coreana e che seguono il K-pop, il K-drama, in generale tutta la produzione anche collettiva, artistica coreana. Vuol dire il cuoricino, riproduce il cuore. Certo, farlo in Italia dove non è conosciuto sembra che tu stia vedendo soldi, perché il movimento è analogo. In realtà qui ci sono le due metà del cuore che appaiono. Quindi le persone che sono appassionate di Corea e di cose coreane si salutano e si riconoscono così. Con questo saluto. Ho in mano, come vedete, tre ciotole. È un libro di cui si parla tantissimo. Allora, intanto, domanda banalissima, Michela. Cosa c'è in queste tre ciotole? Il minimo indispensabile a sopravvivere. Cioè la quantità di cibo che serve a una persona sana, adulta, per non morire di inedia. E a un certo punto la protagonista di uno di questi racconti capisce che non può mangiare di meno perché se no muore, ma non può mangiare di più perché altrimenti rimette. Quindi trova un equilibrio in quelle tre ciotole che nei piatti fondi, nei piatti piani, nelle forchette, nei coltelli non aveva mai trovato. È una metafora della sottrazione alla forzatura delle regole. Noi italiani non abbiamo regole per niente. Non rispettiamo nessuna regola tranne quelle del mangiare. E spesso attraverso l'educazione al cibo ti vengono passati dei limiti, delle costrizioni, delle gabbie che ti porti a presso tutta la vita ma non associ più al cibo. Le tre ciotole queste gabbie le aprono. Aprono le gabbie e tutto il libro apre delle gabbie a cominciare dal primo racconto, espressione intraducibile che ha un incipit di cui stiamo parlando da settimana perché il libro comincia con questa frase. Lei ha una nuova formazione di cellule sul rene. Questo è l'inizio del racconto. Ecco, tu nel racconto ti poni proprio il problema, noi siamo un programma di parole, di dare un nome alla malattia. Oriana Fallaci, ti ricorderai, la definiva la bestia. Ecco, tua mamma lo chiama il maledetto. Tu come lo chiami? Io lo chiamo ham, cioè lo chiamo cancro in coreano o lo chiamo neoplasia, che è un nome tecnico, ma significa che c'è una nuova formazione di cellule mie, cioè non viene dall'esterno. Quando mia madre dice il maledetto o quando Oriana Fallaci diceva appunto l'alieno, sembra una cosa che viene a te da fuori. in realtà è un processo del tuo corpo. Quando usiamo le parole belliche per descrivere il tumore, è stata sconfitta da una malattia, non è riuscita a vincere la sua battaglia, la sua lotta, si presume che dall'altra parte ci sia un vincitore che invece ce l'ha fatta. Ma non è così. Quando muore una persona di cancro, muore con lei anche il suo cancro, perché il cancro e la persona in realtà sono lo stesso processo di vita. Nessuno vince in questa cosa, ma se vogliamo trovare parole diverse, nessuno perde, nemmeno. Vero. Senti, da quando hai reso pubblica la tua malattia, nell'intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo, ecco, la gente ti guarda in modo diverso. Non i tuoi amici, ovviamente, poi parleremo anche della famiglia queer, ma prima volevo dire che le persone che incontri ti guardano in un altro modo. Beh, sì, la malattia ti pone abiti contemporaneamente due mondi. Una malattia, diciamo, di cui hai annunciato il termine, in qualche modo, la fine, perché tutti sperano che dalle malattie si guarisca, anche io lo spero. La malattia ti fa abitare contemporaneamente lo spazio della vita e quello della morte. Per cui chi ti incontra sceglie in quale dei due spazi vederti. Devo dire che per me è molto divertente e surreale e vedere che le persone che mi incontrano sembrano vedermi più che altro nello spazio della morte. Come ho ripetuto in questi giorni al Salone, sono viva e non intendo diventare un monumento. Voglio arrivare viva alla morte, questo è sicuro. Questa è una frase bellissima che mi ricorda quella di un grande umorista, forse lo conosci anche tu, Marchesi, Marcello Marchesi, che diceva l'importante è che la morte ci colga vivi. Ecco, quale, a proposito di frasi, la frase più stupida che ti sei sentita dire o chiedere in questo periodo, tranne quelle che ti sto dicendo io, ovviamente. È una bella lotta, è una bella lotta. Allora, la frase più stupida è questa. Tantissime persone mi scrivono dicendo vorrei vederti. È un desiderio legittimo. Anche persone che mi conoscono e magari non mi vedono da tanto tempo. Quando una persona ti annuncia di avere poco tempo, quello che tu vuoi non conta niente. È il suo tempo che è contato, non il tuo. È la persona che ha poco tempo che deve decidere chi vuole vedere. Quindi io sono sempre in imbarazzo quando dico ho saputo questa notizia, vorrei vederti. La risposta è io no, altrimenti ti avrei cercato prima. C'è sempre l'ego anche in queste cose. Senti, ecco, mi candido alla domanda più stupida, alla frase più stupida e ti chiedo hai mai pensato perché proprio a me? Varrebbe come domanda se me la fossi posta quando mi sono successe le fortune nella vita. Cioè quando ho incontrato le persone giuste, quando ho scritto i libri che volevo, quando le persone hanno creduto in me. Quando ti arriva il bene, quando ti arriva la fortuna così definita, nessuno pensa perché proprio a me. Pensiamo tutti di meritarcela. quando ci arriva la malattia o qualcosa che non abbiamo previsto e che categorizziamo come negativo, diciamo perché proprio a me? Allora la domanda è perché ti aspetti che il male succeda sempre agli altri e il bene sempre a te? Perché quando ti accade il bene è normale e quando ti accade il male invece è un'evenienza che doveva scansarti e colpire il tuo vicino? La domanda che mi faccio è perché non a me? Io non sono speciale. Tutti i giorni le persone ricevono una diagnosi di malattia che non si aspettavano. Può essere questa per me un'occasione per dimostrare e per far vedere che c'è un modo di normalizzare anche le cose che non ti aspetti che appunto io non chiamo male, chiamo sorprese, ma le sorprese dipende sempre da come le vuoi prendere. Io sto facendo, posso dirti questa sera, sto facendo una flebo di coraggio. Ecco, sentendoti parlare vorrei riuscire ad affrontare la vita con un decimo del coraggio e della forza con cui tu affronti la condizione umana. Ti faccio questa domanda, Michela. Riesci ancora a coniugare i verbi al futuro? Sì, ci riesco perché ho fatto scelte di futuro in queste settimane. Ho comprato casa, ho deciso di sposarmi, sto progettando delle cose che hanno un lancio di mesi. Non so se riuscirò a concluderle, ma non è importante. Cioè, è importante che io inizi a progettarle nella speranza di finirle. quando mi hanno dato la diagnosi e la prima prognosi io non avrei dovuto durare un anno. E però sono durata un anno e mezzo e in questo anno e mezzo ho scritto due libri, ho viaggiato, ho incontrato molte persone. La mia vita è anche cambiata. Chissà quanto mi rimarrà. Cioè, so che non è molto perché appunto l'evoluzione della malattia è molto, poco, è relativo. Dipende da come lo affronti tu. Io userò questo tempo al meglio possibile, quanto sia. Ecco, poi questo che mi colpisce, cioè, in questa consapevolezza che hai, anche il modo di vivere il presente cambia. Cioè, ogni singolo gesto assume una solennità, una consapevolezza maggiore nel corso della giornata. È vero ed è faticoso perché chiaramente l'intensità dei sentimenti, io rido e piango come non ho mai riso e pianto nella mia vita. È anche vero però che forse è una consapevolezza che dovremmo avere sempre. che io non ho mai vissuto così forte come ora. Non ti dico che è il periodo più bello della mia vita perché le cure a volte sono pesanti, ma è vero anche che tutto il resto sembra diventato più leggero. I pesi si sono redistribuiti. Senti, hai paura? Ci sono dei momenti? A volte sì, soprattutto di notte, sì. Soprattutto di notte perché ho paura del dolore e ho paura... Il corpo cambia durante la cura e tu lo senti cambiare e ti costringe a fare i conti con una materialità a cui io non sono abituata. e quindi a volte durante la notte ho paura ma trovo sempre qualcuno sveglio nella mia famiglia che trova modo di rassicurarmi. Ecco, e veniamo a questa parola che ci tengo tanto a fare con te. La parola è queer. Intanto spiegala, perché non è che tutti sanno il significato della parola queer, e poi dici che cos'è e come tu la vivi. Stamattina con Chiara Valerio discutevamo proprio di questo, come fare a spiegare che cos'è il concetto di queer. Il concetto di queer è il concetto di cambiamento. Cioè, non esistono ruoli statici, non esistono categorie statiche, non esistono situazioni statiche. Tutto nella nostra vita è un mutamento. Accettare questo mutamento anche identitario, cioè rompere gli schemi per trovarne altri che sono più adatti alla persona che sei in quel momento e alle persone che hai attorno. Cioè, io ho scherzato in questi... Non ho scherzato, ho scritto in questi giorni diversi post su Instagram intitolati Queering the Family, cioè descrivere la famiglia come un luogo di mutamenti, dove i ruoli rigidi non sono sufficienti a dire tutto quello che puoi essere. È più difficile spiegarlo che farlo o che farlo vedere. Infatti, sono abbastanza determinata nelle settimane che verranno a mostrarlo di più, perché ho capito che le persone capiscono meglio se vedono altre persone praticare una differenza liberante che avrebbero voluto magari praticare anche loro nella vita, ma che non credevano possibile. Cioè, tu dici, Michela, che dobbiamo sceglierci la famiglia. La famiglia sono le persone con cui stai bene e con cui scegli di stare, non quelle che, diciamo così, il sangue ti ha portato a chiamare famiglia. È strano, perché in Italia questa cosa sembra che me la stia inventando io in questo momento, come una stranezza mia, ma in Germania o in altri paesi d'Europa ci sono proposte di legge che dicono che i parenti devono poter essere scelti, perché rispetto al sangue l'evoluzione durante la vita ti porta ad avere rapporti profondi con persone con le quali hai un forte legame, ma non una relazione sentimentale, per esempio. E se queste persone si assumono la responsabilità di te e tu di loro, a un certo punto deve produrre degli effetti nella vita. Se sto male, chi deciderà per me? Se muoio, chi erediterà per me? Se due amiche di 70 anni, anziane, decidono di andare a vivere insieme per dividere l'affitto, perché si sono volute bene tutta la vita, sono due vedove, non si vogliono sposare perché non stanno assieme, e comprano una casa prendendola a metà e metà, se una delle due muore, perché l'altra non deve ereditare quella metà? O perché deve essere costretta a sposarsi con l'amica se non è lesbica o se non hanno una relazione sentimentale? Cioè non capisco come sia possibile continuare a concepire la famiglia in un modo in cui la realtà l'ha già cambiata. Guarda, su questo veramente penso che non so quanti possono dirti qualcosa di contrario, perché mi sembra un principio proprio che ha a che fare con la natura umana. Torno un attimo indietro, e poi ti faccio una domanda di attualità, ma prima trovo un attimo indietro perché ancora parlare di salute è un tema che secondo me interessa tante persone che ci ascolto. Il professor Burioni in un post ha scritto commentando la tua intervista ma no, te lo sintetizzo, ma no Michela Mbuse, non si arrenda, abbiamo le cure. E tu non l'hai presa benissimo. Lui magari le sue intenzioni erano buone immagino, non voleva essere gentile. Puoi spiegare per quale ragione non ti hai replicato questo posto? Guarda, ci siamo sentiti in privato anche e lui si è scusato con me per l'obiezione che gli ho fatto, che è corretta. Cioè, lui non si rivolgeva a me, si rivolgeva ai pazienti al quarto stadio che hanno in piccolo numero una speranza di guarigione. Quindi voleva rassicurare la disperazione degli altri. Ma partendo dal mio caso ha detto quella cosa anche a me. Ora, è strano che un professionista esprima diagnosi e prognosi addirittura senza aver mai visto la cartella clinica della persona con cui sta parlando. Quindi questa è l'obiezione che gli ho fatto. Ci siamo chiariti, io apprezzo anche il fatto che lui si sia scusato, ma rimane una questione. Cioè, bisogna stare molto attenti a intervenire nel rapporto tra il paziente e il suo medico che conosce il suo caso. Perché rischi di inserire una sfiducia. Se io non fossi così ferma e così fiduciosa nel mio medico, avrei potuto chiamarlo dopo quel tweet e dire scusa ma non mi stai curando bene? Perché Roberto Burioni dice che io posso guarire. E tante persone hanno questa speranza. Io so di essere nelle mani del miglior medico possibile per quel che riguarda il mio tumore. però ho capito anche che cosa ha spinto il professor Burioni a dire questo. Quindi bisogna rispettare moltissimo il privato delle malattie. È un grandissimo tema. Sì, dottorio che non lo sia. Senti, vorrei chiudere con una domanda d'attualità. Non posso non chiederti la notizia proprio oggi pomeriggio. La ministra della famiglia, parliamo prima della famiglia, Eugenia Roccella oggi era al Salone di Torino e non ha potuto presentare il suo libro Una famiglia radicale perché è stata interrotta da un gruppo di contestatori e contestatrici. Ecco, quello che ti chiedo è è stato un po' il dibattito che stiamo facendo in queste ore ma la democrazia non è anche ascolto e confronto perché la ministra ha detto a uno di loro salite sul palco con me e parliamo e invece loro hanno detto no, noi non vogliamo in questo momento dialogare con te siamo venuti solo a contestarti. Beh, contestare una posizione che non si condivide è una possibilità permessa solo in democrazia. nelle dittature l'esercito sarebbe arrivato e avrebbe portato via quelle decine di persone quindi il fatto che qualcuno possa andare a contestare una ministra è un fatto democratico. C'è una cosa da dire la ministra Roccella non è una scrittrice come un'altra è una persona che ha il potere di fare le leggi e attraverso le leggi influisce sulla vita delle persone che attengono al suo ambito ministeriale diciamo. In questi mesi Eugenia Roccella ha fatto molte cose che hanno cambiato la vita delle famiglie non tradizionali mettiamola così e queste persone stanno pagando quotidianamente le scelte di queste leggi quindi è normale che siano arrabbiate ed è normale anche che vadano a mostrarlo se volevi il dibattito l'avresti fatto in un percorso di costruzione di quelle leggi e avresti trovato il modo per includere anche le posizioni conflittuali perché in democrazia la mediazione si fa prima delle leggi se prima fai le leggi e poi vuoi il dibattito io mi sento un po' presa in giro quindi capisco che le persone abbiano detto è troppo tardi per il dibattito la domanda che mi faccio è questa hanno attaccato il direttore del salone Nicola Laggioia perché secondo loro non è intervenuto con abbastanza forza Nicola Laggioia ha ribadito con chiarezza che in democrazia finché non c'è violenza si può fare conflitto contestazione di idee anche dicendo all'altro quello che tu hai fatto e che hai scritto e teorizzato in questo libro ha reso la mia vita peggiore quindi io qui non ti lascio parlare non hai diritto perché tutti abbiamo perso qualcosa invece tu hai scritto un libro guarda questo è un tema di cui tra l'altro parleremo poi dopo con i nostri ospiti perché poi il rischio di passare dalla parte del torto in questi casi però è un tema molto interessante di dibattito molto bello Michela io voglio far vedere ancora una volta il tuo libro guardate non ho bisogno di dirvi di leggerlo perché lo stanno già facendo centinaia di migliaia di persone dico soltanto grazie e ripeto quello che ho detto prima Michela quando ho un momento di calo di coraggio due pagine del tuo libro e mi ritirano su grazie davvero per tutto quello che sei grazie Michela Murgia tre ciotole rituali per un anno di crisi ciao grazie Michela